Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeto Kishan 376x255. Questi tappeti sono annodati nel versia centrale, sono di alta qualità e spesso hanno un motivo a medaglione su campo fiorito, ma possono esserci variazioni. Il motivo dei tappeti Kishan è usato spesso come originale per la produzione industriale di tappeti. I tappeti Kishan fanno bella mostra di sé nelle principali case reali europee. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 10 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.